Ciao! Anche oggi vi proponiamo qualche esercizio. Quello che ci servirà è una sedia. Iniziamo con le mani ai fianchi e facciamo dei passi lunghi. Ogni volta uniamo i piedi. Un passo, un passo, un passo e un passo. Quattiamo a 10 passi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Oggi andiamo a sedere. Rimaniamo con la schiena dritta. Sedere appoggiato nella parte più avanzata della sedia. E ci prendiamo con le mani sotto al sedile della sedia. Stendiamo un ginocchio che poi si riappoggia il piede a terra. Stendo e torno. Stendo e torno. Stendo e torno. Stendo e torno. Anche qui ne contiamo sempre 10. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Lasciamo le mani che rimangono vicino alle cosce e alziamo le spalle in maniera alternata. Quindi, prima una, due, e poi l'altra. E anche qui dobbiamo contare fino a 10. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Allarghiamo un po' le gambe. Facciamo un bel respiro. E scendiamo avanti piano. Poi di nuovo, lentamente, ci alziamo. Un bel respiro. E scendiamo avanti piano, soffiando fuori l'aria. Ultima volta. Alzo le braccia. Un bel respiro. E scendo. Ecco qua, qualche esercizio da fare insieme. Ciao!